Salva gente, allora oggi si parla di maglie, della nuova maglia per la stagione 2023-2024 della Lazio. Ovviamente già ieri c'è stato un piccolo spoiler purtroppo di un furbone che spero che quando ci sono queste occasioni dove arriva la nuova fornitura delle nuove maglie ci sia anche un contratto scritto di non divulgazione. Spero che ci sia, insomma che questa persona paghi per il gesto stupido che ha commesso, insomma rovinando un po' l'attesa, comunque l'abbiamo vista ieri, l'abbiamo rivista ancora meglio oggi, le nuove maglie della Lazio. Adesso ve le metterò qui comunque le immagini, prima però come sempre vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'aveste fatto, iscrivetevi ovviamente andare su iscrivervi, iscriviti, vai sulla campanellina per rimanere già su tutti i contenuti, Instagram se ce l'hai, nostra famo 76 dove già ho messo le foto, le stesse che adesso ripropongo qui e ho già commentato quello che poi andrò a dire anche in questo video e poi un like sempre e comunque iscritto o non iscritto che tu sia a questo e agli altri video che andrai a vedere di questo canale. Oh ma pure se ti piace il video ragazzi, ma che ve costa, e lascialo un like e fammi sto regalo. Allora, ragazzi, le nuove maglie, questa è quella dell'anno scorso, l'ho messa anche per fare, vabbè qui c'è ancora il logo Binance, qui ancora non abbiamo nessun logo, il che è anche bello in questo senso, però ve lo dico subito, io non so voi, leggerò i commenti volentieri, io sono rimasto un po' deluso, un po' deluso perché mi aspettavo qualcosa in più. Adesso mi sembra che Mizuno sia andato troppo sul semplice, nel senso si è limitato a... poi magari mi sbaglio ragazzi, andrò a vedere la maglietta, ma mi sembra che ha riproposto lo stesso identico colore dello scorso anno, ripeto, dalle foto così sembra, poi magari mi sbaglio una tonalità magari leggermente diversa, però io spero che sia leggermente diversa, perché riproporre lo stesso tonalità di Celeste, onestamente mi sembra una cosa troppo semplice. Anche perché nel 74 non era esattamente questo il Celeste, quindi mi sarei aspettato uno studio sul Celeste delle maglie del 74, visto che ci sono in giro, si possono trovare anche, forse anche proprio nella Lazio, a Formella adesso non lo so se ci sono delle bacheche con qualche maglia del 74. Comunque se si chiedeva a qualche ex giocatore, o ai familiari di qualche ex giocatore, visto che proprio questi giorni è scomparso D'Amico, Vincenzino, insomma, per andare a ribeccare lo stesso Celeste. Comunque, le caratteristiche di questa nuova, ripeto, non so il colore, però il colletto AV, ragazzi vi dico, questa è una cosa che mi piace, perché l'anno scorso di questa maglia, che a me piaceva tantissimo, di Mizzuno la prima, non mi piaceva il colletto AV, perché a me mi fa sudare, a me piace più il colletto AV, questo tondo onestamente no. Dalle foto che adesso, che insomma, vi faccio vedere, vedete, a parte il colletto AV, la differenza rispetto allo scorso anno, cioè qui c'è un bianco celeste e bianco, e invece troveremo l'azzurro, bianco e celeste, un pochettino a risaltare quel bianco, che era il bianco dello scudetto, cioè la maglia dello scudetto era completamente bianca qui, infatti mi chiedo perché fare celeste, bianco, celeste, quando in realtà potevi fare tutto bianco e AV, anche qui tutto bianco AV, insomma, riprendere molto di più la maglia, insomma, quella maglia ragazzi non c'era un logo, non c'era niente, era una maglia bianca e celeste, punto, semplicissima. Io sarei andato molto sul semplice, tutto bianco, il celeste, ripeto, se si riusciva a beccare quella tonalità sarebbe stato perfetto, e vi dirò di più, io adesso non so se c'è un problema di copyright, proprietà dei loghi, io non lo so, ma quanto sarebbe stato bello mettere il logo, proprio il logo che quella maglia non aveva, e invece rimettere il logo del 74? Quanto sarebbe stato più originale? Una maglia unica? Allora sì che scrivere 50 anni anniversario, il cinquantesimo anniversario, aveva un senso, veramente, perché tu mettevi il cinquantesimo anniversario mettendo il logo di quell'anno, pure se costava qualcosa, ma io avrei fatto un investimento e creato una maglia unica, cioè, sono passati 50 anni, tu me devi mettere qualcosa, cioè, non basta mettere, cioè, riproporre lo stesso celeste, uno sfondo, ripeto, qui sono tante aguile, a me questa mi piace tantissimo, lo scorso anno, questa volta apparentemente riproposto il logo, sia qui sul petto, che lo stesso logo, lo vedete anche dalla foto, riproposto in modo gigante, anche bello, però troppo semplice, io ripeto, cioè, alla fine c'è una maglietta, una maglietta banale, quella del 73, parliamoci chiaro, colletto completamente bianco, senza mettere blu, bianco, blu, io l'avrei fatto completamente bianco, e completamente bianco qui, è la maglietta, così, con l'aquila, se volete, però, l'aquila riproposta qui, il logo riproposto, non è quello attuale, è il logo del 74, ma quanto sarebbe stata bella, ripeto, il logo del 74, vi ho messo anche la foto, ve lo rimetto qui, adesso non so, nel montaggio dove me la metto, cioè, era molto simile, era molto simile, quindi, quanto sarebbe stato bello, invece, da avere questi, celeste, bianco, celeste, rimette quel logo, ripeto, non so chi era autorizzato, ma io penso che quando vai a fare una celebrazione, un omaggio di un anniversario, sarebbe, non era, quanto poteva essere difficile riprendersi quel logo, per questa motivazione, cioè, quanto sarebbe stata più bella, ripeto, un po' come quella, del decimo anniversario, della coppa in faccia, ci si perde nei particolari, veramente nei particolari, cioè, tu per ricordare quella maglia, devi scrivere cinquantesimo anniversario, ma se tu mi mettevi il logo qui, non c'era manco bisogno di andare a leggere cinquantesimo anniversario, si capiva subito, è quello che dico, la maglia celebrativa, se non ci mettevi il decimo anniversario scritto dietro, e la data qui davanti, che c'aveva, non c'aveva, dice, ispirata a quella giornata, non era ispirata per nulla, né nei colori, né nella forma, niente, quindi è una maglia, ripeto, a me, mi ha un po' deluso, perché mi aspettavo, dei particolari migliori, semplici, ma che erano più indirizzati a quella maglia, quindi, con il letto completamente bianco, con le braccia completamente bianche, come era quella di quella squadra, riprendere il logo, che quella maglietta non aveva, e metterlo, e da quel logo, farlo anche qui tutto quanto, sarebbe stata spettacolare, non è che sia brutta questa, ripeto, però molto simile, troppo simile, all'idea della maglietta 2022-2023, la seconda, io, non lo so ragazzi, l'andrò a vedere da vicino, ma io calerei un velo pietoso, cioè sembra una maglietta d'allenamento, io non veramente, io, adesso la vado a ricercare, io mi ricordo, due o tre anni fa, c'era una maglietta simile a questa, che era quella proprio d'allenamento, simile a qui, io non so, veramente, mettere questi colori, sì, mettere il bianco, rosso e verde, sempre perché anche lì c'è scritto ricordo del 50esio anniversario, quindi nel ricordo di quello scudetto è mettere i colori, però la maglia in sé, proprio il disegno, la scelta della fantasia, non è bella, non è bella, anche qui il colletto addirittura non c'è proprio, non c'è nessun colletto, perché? Allora fammi un colletto, pure qui, verde, magari lo fai, che ne so, verde, bianco e rosso, per dire, oppure, cioè non lo so, oppure me lo fai bianco e blu, non lo so, insomma, cioè veramente, sembra sempre che manca un qualcosa, per fare un qualcosa di più particolare, ci si accontenta, troppo, non lo so, io infatti, come ho scritto anche su Instagram, confido nella terza, perché, essendo molto scura già la seconda, la terza, mi aspetto un colore, o un'altra volta bianco, o un colore molto diverso, magari, magari molto diverso, non troppo scuro, un colore originale, non lo so, confido nella terza, onestamente, e poi sceglierò quale, quale comprare, è chiaro che la prima, attualmente, è quella che vince, cioè tra la prima e la seconda, non c'è Paracone, la prima è una maglietta, comunque bella, la seconda è in pigiama, assolutamente, non mi piace, però, ripeto, un'ennesima occasione persa, da parte di Mizzuno, e da parte della Lazio, che non ha dato, secondo me, le giuste direttive, ripeto, per me la Lazio, doveva fare uno sforzo, a cercare di prendere, almeno per questa occasione, dando dei diritti, non lo so, sulle magliette, prendere il logo del 74, ragazzi, il logo del 74, sul petto, e il disegno sotto, che abbiamo visto, del 74, cioè, quindi riprendere il logo, e riproporlo, sulla maglietta per intero, sarebbe stata, bellissima, e unica, sicuramente, anche seppur, lo stesso colore, dello scorso anno, sicuramente, è una maglietta, da comprare, senza, proprio neanche a starci a pensare, invece noi vendiamo magliette, sperando che, basta, basta, insomma, scrivere, anniversario, ecco, ci si basa solo su questo, sulla scritta anniversario, nella speranza di vendere magliette, ma non è così, bisogna stare attenti ai particolari, perché ripeto, una maglietta, non è che deve essere, stravagante, tipo il Messico, qualche mondiale fa, quella verde, con tutto, il disegno dei maia, che era bellissima, poi tra l'altro, però dico, porca miseria, cioè, ma, ma, veramente, semplici, particolari, per renderla unica, visto che l'anniversario è una volta, cioè, c'è avuto 50 anni di tempo, per pensarci come fa sta maglietta, mi è sembrato, troppo banale, le scelte, niente ragazzi, in attesa della terza maglia, aspetto i vostri commenti, ripeto, la seconda, non ne voglio proprio parlare, avete visto la foto, peccato, peccato, veramente, la prima per poco, si poteva fare meglio, la seconda, si poteva fare veramente, molto, molto, molto meglio, quindi aspetto i vostri commenti, e ci vediamo presto con un prossimo video.